Invece sono già pronta, sono qui che devo fare questo cruciverba. Va bene, buon'ho mai. Parlavi di me? Lo so, faccio sempre questo effetto io alle donne. Invece di dire cazzate, viene ad aiutarmi. Va bene, sì. Allora, sono famosi quelli egiziani. Pizzaioli. I pizzaioli. Va bene. Fa strage di galline. Banderas. Se no. Volevamo essere seri, sì o no? Va bene. Va bene. Attraversò le Alpi e scese la penisola con gli elefanti. La so. Oh. Moira o te. Ma non era Nibale quello? Ma un era morto. Ma lui ha tutto Moira di figli. Vabbè, ci penso io. Vai. Allora, amici ascoltatori. Vai. Un fatto straordinario. La so. Un fatto? Sì. Straordinario? Buon male. Va ragazzi. Facciamo una gara? Vai. Allora, undici orizzontale. Sì. Sì. Si mette nell'orecchio per attirare l'attenzione. La lingua. Sei orizzontale. Finisce con la morte. Il mutuo. Viene dopo il P greco. Q greco. Passato di patate. Patatai. Ma queste ragazzi, se queste non le azzeccate vado via. Ci vediamo due. Vai. Coppia con Rumeo. Alfa. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Vai, basta. Arrivederci. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto.